Vogliamo tutti insieme con la nostra coalizione... E' nel cuore di Cagliari che si è giocata nel volgere di pochi giorni la sfida a distanza tra i principali concorrenti per raggiungere il primato dei voti per le coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Venerdì sul palco di Piazza del Carmine è salita in buona compagnia la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, una toccata e fuga per poi riprendere l'aereo per Roma. Molto più intensa la giornata nell'isola di Enrico Letta che ieri dal Poetto si è spostato in Via Emilia accompagnato dai candidati sardi per poi raggiungere la grande piazza a cento metri dalla stazione e concludere le sue fatiche al Verdi di Sassari all'ora di cena. Nei giorni scorsi c'è stato spazio per la presentazione in un albergo cagliaritano dei candidati di Forza Italia, di quelli del PD a Lazzareto nel difficile quartiere di Sant'Elia, dell'Alleanza Verdi e Sinistra capeggiata dall'outsider Francesca Ghirra, della squadra dei Cinque Stelle che ha scelto la campagna di Orgosolo per una estemporanea presentazione del suo team. E sempre ieri, mentre Letta viaggiava da un appuntamento all'altro nel cuore del capoluogo, ad Alghero il governatore Solinas ed il presidente del Consiglio Paes presentavano i candidati in gioco in Sardegna per la Lega e i sardisti. E stasera alle 21 e in replica, domani alle 18, il secondo appuntamento con Zoom speciale elezioni, oggi in calendario a Nuoro. La trasmissione è rigorosamente in diretta in onda dal giardino di casa Buscarini, i sei ospiti di Antony Muroni, Silvio Lai, Pietro Pittaris, Francesca Ghirra, Giuseppe Luigi Cucca, Michele Piras, Emiliano Fenu e Stefano Coino. Il prezzo del gas dal TTF olandese che è motivo di tanta speculazione.